Il Tribunale del Riesame ha confermato la misura cautelare interdittiva della sospensione dall'esercizio di pubblico ufficiale per Giorgio Robuffo, 60 anni, medico addetto al Servizio Prevenzione e Tutela della Salute nei luoghi di lavoro dell'Asla di Pescara. Il provvedimento, la cui durata è stata fissata in sei mesi, era stato disposto lo scorso 7 luglio dal GIP del Tribunale di Pescara Gianluca Sarandrea, su richiesta dei PM Cristina Tedeschini, Anna Rita Mantini e Gennaro Varone, all'esito di una complessa attività di polizia giudiziaria in corso da oltre un anno. Robuffo è indagato per corruzione e concussione. Dalle indagini della squadra mobile sarebbe emerso che Robuffo, nel corso di alcune visite ispettive condotte tra il 2011 e il 2014 nella provincia di Pescara nei confronti di alcune ditte, rilevando puntigliosamente e pretestuosamente presunte irregolarità e prospettando sanzioni pecuniarie e denunce, ha indotto o tentato di indurre i titolari di almeno sei delle aziende ispezionate a rivolgersi a una società di consulenza specializzata in materia di sicurezza dei posti di lavoro, la International Work di Montesilvano, di cui lo stesso medico è risultato socio occulto. Le presunte condotte illecite del pubblico ufficiale sarebbero state compensate dai due soci titolari della International Work, coindagati per i menesimi reati con più d'azioni corruttive, per un totale di oltre 57 mila euro, che sarebbero stati pagati attraverso una serie di bonifici emessi a favore dei due figli di Robuffo, mascherati come pagamenti di fatture relative a prestazioni lavorative fittizie.